Ben trovati, ancora una volta questo è Vallinevole News, appuntamento settimanale con il preparatore atletico Emanuele Prosperi. Oggi una sorpresa. Ciao Emanuele! Buongiorno a tutti! Cosa ci dici oggi? Cosa ci hai preparato? Allenarsi è bello ma in coppia è ancora più bello. Oh, quindi? Quindi allenamento di coppia. Allenamento di coppia. Tac! Eccoci! Cosa gli fai fare? Allora, si parte subito, facciamo un circuitino. Un circuitino? Un circuitino dove le persone di coppia non trovano scusanti. moglie e marito, fidanzati. Non abbiamo tempo per allenarsi. Ma mica con i guantoni? No, no, no. Sai che allenamento coppia. Quindi di conseguenza dice, troviamo il tempo e ci alleniamo insieme. Vai! Allenarsi insieme è la cosa più bella. La cosa più bella. Quindi partiamo con uno di fronte all'altro. Oh, uno di fronte all'altro. E facciamo squat, passo, squat, passo. Via! Bravo, andate di fronte. Molto bene, ancora. Li fai anche ballare. Esatto, vedete? Ancora, un altro giro. E adesso li parte? Vedi? Affina anche l'affinità di coppia. Anche l'affinità di coppia. Fa anche cupido. Vedi? Due, e tre. Ok, stop. Al muro. Al muro. E così aggiunta. Eccoci. Piegamenti sulle braccia. Piegamenti sulle braccia. Uno. Più bassa. Due. Tre. Pacinzia. Amorezzi. Quattro. Cinque. Su. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bene. Frontali. Uno. Pronti all'altro. Squat. Via. Vediamo spostare. Uno. Squat. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ancora. Piegamenti sulle braccia. E ci rischiamo con i piegamenti sulle braccia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Stop. Andiamo a fare le spalle. Una borsa. Una borsa. E un bastone. No, che bastonava. Un bastone. Vediamo questo bastone. Piegare le ginocchia. Allora, due spalle, lento avanti, con il bastone della scoppa. Diciamo sì a meno di tanto. Sì. Via. E lei in rotazione delle spalle. Dieci. Eccoci. Tre. Quattro. Cinque. Molto bene. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E dieci. Appoggiate. Concludiamo con gli addominali. Ecco. Oh, gli addominali le sono appassionate di tu. Uno di fronte all'altro. Quindi, una di qua. Sette. No, no. Giù. Impasso. Vai, mani giù. Ok. Vado su col sedere. Come ha detto. Vai. Stendo le gambe. Così? Sì. Stendo anche quest'altra. Baccio. Sul sedere. Sul sedere. Wow. Vieni in avanti con i piedi. Bene. Con tre pelle addome. Dieci soffili. Dentro la faccia. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Stop. E vengo su. Abbiamo finito il nostro allenamento. Ecco. A questo punto siete più felici? Sì. No. Eh. A posto. Chiaramente poi questo circuito deve continuare. Quanto? Quanto vuole? Circa una venticinque minuti, mezz'ora. Venticinque minuti. Ma che sono degli step da fare. Quindi seguiteci. Sono pillole. E vi aspetto anche qua a far postura. Dove? Vi saluto a venerdì prossimo. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Seguiteci. Valdinevole News su social Facebook. Tweetiamo anche YouTube. Bye bye.